Ciao a tutti, io oggi sono qui perché vi voglio far ascoltare una delle poesie di Maledretta di Calcutta dedicata proprio al Natale. Inizia così. Asciuga, bambino Gesù, le lacrime dei fanciulli. Accarezza, il malato e l'anziano. Spingi gli uomini a deporre le armi e a stringersi in un universale abbraccio di pace. Invita i popoli, misericordioso Gesù, ad abbattere i muri creati dalla miseria e dalla disoccupazione, dall'ignoranza e dall'indifferenza, dalla discriminazione e dall'intolleranza. Sei tu, il divino bambino tibetlemne che ci salvi liberandoci dal peccato. Sei tu, il vero e unico salvatore che l'umanità spesso cerca a tentoni. Dio della pace, dono di pace, per l'intera umanità viene a vivere nel cuore di ogni uomo e di ogni famiglia. Sei tu, la nostra pace e la nostra gioia. Io per oggi voglio concludere questo video così, con questa poesia, anche perché adesso ci sentiremo a gennaio e quindi ne approfitto per augurarvi a tutti quanti un buon Natale e soprattutto un felice anno nuovo. Ciao a tutti e alla prossima! Ciao a tutti! Ciao a tutti! Ciao a tutti!